George Sand singolare maschile il signor George Sand con un nome da uomo avrei venduto più libri alle donne perché sono le donne quelle che leggono di più gli uomini non hanno mai tempo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il waltzer la prima danza di società in cui un uomo e una donna ballando si toccano prima non era mai accaduto ma i waltzer di Chopin non si possono ballare come la waltz minute che dura appena un minuto e subito sembra voler fuggire via inafferrabile molto vivace e leggero scrive Chopin sullo spartito suonare volando nell'ebbrezza di un istante grazie a tutti grazie a tutti